salve salve sto qui a piazza peplicito con il nostro maestro che il marchio il menestrello più menestrato d'italia comunque il problema è questo facciamo un pezzo di lui che riguarda l'interumanità parlo degli esseri umani quelle bestie a volte allora voi diciamo che ma che cosa ne pensa dell'essere umani in genere io e allora lui ha detto monnezza lui ha detto monnezza ma io vi voglio un po aiutare per dirvi che l'essere umano da quattro mila anni nasce najavaka cresce najavaka e mora najavaka il pezzo è finito arrivederci Medizudd stiamo arrivando a Medizudd quando? Frick lo vedremo a Medizudd ultimamente prossimamente ma se lui viene però no no ma io non vado a Medizio allora lo presento io il pezzo sugli esseri umani